Se ci fosse una reinfezione in autunno saremmo nelle condizioni di censire i focolai, ve ne ha parlato anche la dottoressa Russo, perché il focolai per noi sono due persone conviventi o comunque che vivono da vicino, e quindi lavorare sui micro focolai e non più pensare di usare una rete con le maglie fine per prendere tutti. Questo ho detto. Quindi, dette parole povere, finché sarà gestibile il lockdown non avrà più senso. Invece rispetto a qua, se ci fosse una reinfezione con una fiammata di quelle paurose, stile marzo-aprile di quest'anno, ragazzi, una fiammata di quelle paurose con 4-500 persone in terapia intensiva e 2.000 ricoverati, va in lockdown, cioè non ci sono altre soluzioni. Perché se fosse così forte vuol dire che siamo pieni di focolai, perché questo è il vero tema, la diffusione sul territorio. Dovremmo tornare tutti in casa, per questo che invito tutti a dire inutile pregiudicare il futuro per fare l'epi-hour fianco a fianco. Cioè, fate lo stesso, ma evitate il casino, utilizzate la mascherina.